Il Comune di Sulmona mette mano alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale. La Commissione Territori e Servizi ha approvato ieri le contradduzioni alle osservazioni e il recepimento dei pareri che, dopo l'ok della provincia, dovranno essere portati all'attenzione del Consiglio Comunale. Si tratta dello strumento adottato nel 2009 dalla precedente amministrazione Federico, predisposto tramite l'allora Assessore all'Urbanistica Palmiero Susi e lasciato in eredità al suo successore Gianni Cirillo. Spetta ora la Giunta Ranelli portare a termine il lavoro che potrà accelerare la redazione del nuovo PRG con la palla che passa al neo Assessore all'Urbanistica Aldo Milan. La Commissione ha inoltre approvato la delibera sull'adozione dello studio di microzonazione sismica. Questa mattina, invece, si sono riunite congiuntamente le commissioni Bilancio e Welfare che hanno dovuto esaminare la bozza del bando per l'assegnazione di contributi in favore di nuclei familiari in condizioni economico-finanziarie disagiate. Con il contributo della minoranza sono state apportate modifiche e le famiglie, individuate in base al reddito ISEE, potranno beneficiare di un rimborso del 50% anziché del 20% come previsto inizialmente. I rimborsi arriveranno fino ad un massimo di 150 euro per tutte quelle famiglie in difficoltà che hanno pagato la Tares negli anni 2013, 2014 e anche 2015. Una volta recepite le modifiche dovrà essere approntata la proposta di giunta per portare di nuovo il documento in commissione, dopodiché si potrà dare attuazione all'assegnazione dei contributi.